carissima e tu dai mi hai piaciuto tu sei la mia amica vai buon bacettini dai buon bacettino buon piazzattazione e riballa come l'avete un po' esaltato oggi ho celebrato 35 metri 35 metri o cosa ha dato pane vino vale vuol dire qualsiasi e Gesù camminava nel diverso camminava la mattina e la santa è calda ma a me era una camminanza 40 giorni e se noi andavamo a te però non è che tu puoi fare tutti i movimenti a un certo punto si ferma e dice mi sono perso e Gesù camminava nel deserto aveva ritrovato la strada a un certo punto dentro un cespuglio vede Simon Pietro c'era Simon Pietro nel cespuglio non è dato sapere quello che stava facendo Pietro vede Gesù Gesù vede Pietro e Gesù di Stagone Gesù corretta è Pietro vede è Pietro vede è Pietro vede arrivo da parte al portone di un tempio arriva Gesù la certissimo in stop motion Pietro staccato 50 metri che cosa è Pietro vede ma dai padre non ne parlo di senso è Pietro vede una bella bambina era quando? ma sempre, perché non possiamo avere i figli? non aveva fatto adesso niente come non sapeva niente? mi ha fatto un figlio allora ho fatto la gliciometri e il segnale non gli aveva spiegato i seminari ma vabbè non dice niente ma se mi direi ce lo stanno tutti adesso è sempre festa